Buongiorno a tutti e benvenuti all'evento magistralmente duemilaventuno dell'Università degli Studi di Perugia. Io sono Ilaria Venanzi, sono la referente per l'orientamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Questa mattina siamo qui per presentarvi il nuovo corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale che ha sede a Terni. A breve vedremo un video in cui il direttore del Dipartimento, il professor Giovanni Gigliotti, ci presenterà tutti i corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Subito dopo il professor Luigi Torre, responsabile del corso di studi, ci illustrerà appunto il corso di studio di cui parliamo oggi. Quindi interverranno alcuni docenti del corso di studio, il professor Posse Acheni, il professor Andrea Rischino, il professor Massimiliano Gioffre e il professor Pietro Burrascano, che presenteranno le principali linee di ricerca con sede di Terni correlate, della sede di Terni correlate con il corso. Potrete quindi vedere gli interventi video registrati e di professionisti che occupano posizioni di prestigio in vari ambiti aziendali che ci parleranno della loro esperienza professionale e ci daranno testimonianza di quanto siano ricercati eh professionisti esperti nell'ambito di nuovi materiali dei processi sostenibili e nel mondo del lavoro. Quindi eh come avete sentito dal video introduttivo eh al termine del di tutti gli interventi potrete eh rivolgere le domande ai nostri relatori eh con le modalità che vi sono state spiegate quindi utilizzando eh gli appositi spazi del piattaforma. Vi auguro buon ascolto e prego la regia a di ehm mandare il video del direttore di dipartimento, professor Giovanni Gigliotti. Buongiorno e benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia. Eh vi accogliamo eh per illustrarvi la nostra offerta eh formativa eh sui corsi di laurea eh magistrale del nostro Dipartimento. Eh il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale eh nell'ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza aveva come obiettivo anche quello di eh riformare profondamente l'offerta eh formativa in ambito di eh lauree magistrali. Eh ecco quindi i nostri corsi di laurea sono stati eh tutti rinnovati eh i nostri corsi di laurea magistrale sono fortemente eh legati eh a quella che è eh l'attuale eh offerta eh di lavoro eh offerta occupazionale eh del del mondo di lavoro e ehm precorrendo i tempi eh il nostro Dipartimento ha eh scelto eh la strada eh di eh incentrare i propri corsi di laurea magistrale eh su quelli che poi oggi sono eh i temi eh del piano nazionale di ripresa e resilienza. Eh infatti i nostri corsi di laurea magistrale sono incentrati eh su eh cardini fondamentali quali eh la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Eh nello specifico eh abbiamo un corso di laurea magistrale in ingegneria civile presso la sede di Perugia. Eh questo corso di laurea magistrale in ingegneria civile si ripromette di formare eh un ingegnere eh moderno declina eh il eh declina eh l'offerta eh eh formativa eh soprattutto nell'ambito della sicurezza eh nell'ambito eh del eh controllo delle strutture e delle infrastrutture e infatti il questo corso di laurea è diviso in due curricula e il curriculum il curriculum strutture e il curriculum infrastrutture. E poi abbiamo il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio eh anche questo corso di laurea declina eh il ruolo dell'ingegnere ambientale eh così come eh stabilito eh negli ultimi anni dalle richieste di mercato. È un ingegnere ambientale che deve assicurare eh la sicurezza del territorio, deve assicurare la sicurezza nella produzione eh nella produzione di cibo, nella eh produzione, nell'approvvigionamento idrico. Eh anche questo corso di laurea magistrale è stato revisionato, il corso di laurea magistrale revisionato in ingegneria per l'ambiente e il territorio partirà con il prossimo anno accademico, quindi con l'anno accademico 2021-2022, anch'esso con due eh con due curricula. Eh uno in più specificatamente dedicato alla difesa del suolo, l'altro dedicato alla sostenibilità in tutte le sue eh declinazioni. Il corso di laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio ha sede come quello di ingegneria civile eh eh a Perugia. E poi abbiamo invece due corsi di laurea di recentissima istituzione eh che eh hanno invece sede eh di staccata rispetto a Perugia. Eh il primo è il corso di laurea magistrale Planet Life Design. È un corso di laurea magistrale che segue eh la nostra triennale eh di eh design e che è fatto in eh collaborazione eh con la prestigiosa eh con la prestigiosa università eh secondo università eh di Napoli eh l'università eh Bambitelli eh di 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 Napoli che appunto ha sede ad Aversa. Eh il corso di laurea in Planet Life Design ha sede in Assisi eh come dice il nome stesso eh declina il design in eh in chiave in chiave ambientale. Eh la didattica è estremamente estremamente innovativa e eh si ripromette appunto di formare eh dei designer con grande consapevolezza di quella che è la sostenibilità. Infine il corso di laurea magistrale in ingegneria eh per i materiali e i processi sostenibili. Eh questo corso di laurea magistrale ha sede a Terni e partirà per la prima volta il prossimo anno accademico quindi nel l'anno accademico 2021-2022. È un corso di laurea magistrale eh estremamente innovativo eh proprio perché è incentrato non solo sui materiali ma anche sui processi e entrambi li declinano eh li declinano eh nell'ambito della sostenibilità. Eh il corso di laurea eh affonda molto profondamente le radici così come tutti i nostri corsi di laurea magistrali eh nella ricerca che viene svolta eh presso i nostri laboratori. Eh è suddiviso in eh tre eh curricula eh uno in materiali eh per l'aerospazio, uno in materiali per il green building e il terzo invece in eh eh processi sostenibili. È un corso di laurea internazionale, ha alcuni insegnamenti in lingua inglese e sono in corso di perfezionamento eh degli accordi internazionali per ottenere il eh doppio titolo. Ecco questa è una panoramica chiamiamola così istituzionale su quella che è l'offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in ambito di eh corsi di laurea magistrale e chiaramente ciascuno di questi corsi di laurea sarà approfondito eh nel corso della eh discussione. Ed ora il professor Luigi Torre eh responsabile del corso di studio ci presenterà eh il corso. Prego Luigi. Grazie Eran. Buongiorno a tutti e sono eh già stato presentato sono il professor Luigi Torre e sono il coordinatore di questo eh di questa nuova laurea magistrale in questi nei prossimi dieci minuti vi darò un pochino di indicazioni e vi spiegherò eh perché la genesi e e per quale motivo abbiamo pensato di proporre in realtà sarebbe quasi di proporre questo corso di questa laurea magistrale in ingegneria dei materiali e processi. Come si dice da azienda la nostra mission la nostra missione è quella di eh formare un ingegnere che sia in grado di eh di operare nella produzione industriale dei materiali eh sia intese come materie prime ma anche come cioè potrà lavorare sia nella produzione delle materie prime ma anche come esperto controllo di qualità di riguardo i materiali nella selezione materiali destinata alla produzione dei componenti o dovrà avere o formeremo un ingegnere con capacità di progettazione per materiali avanzati per applicazioni specifiche con le conoscenze dei processi di produzione. Un ingegnere che sarà in grado eh di avere competenze relative alla produzione e l'uso di materiali polimerici, compositi, metallici, inorganici e alla loro caratterizzazione o è un ingegnere che abbia che può avere competenze sulla produzione energetica, progettazione circolare, riciclo, eh analisi del ciclo di vita. Quindi ingegnere con eh di processo ma con forte eh impronta eh ambientale ma anche eh un un laureato con un corso di di laura che proponiamo sarà anche in grado di svolgere ricerca avanzata sul materiale. Quindi potrà lavorare come ricercatore in centri di ricerca avanzati di aziende pubblici e privati. Eh perché abbiamo scelto questo corso? Storicamente eh nel contesto europeo la ricerca dei materiali è da anni sempre considerata fondamentale in tutti i programmi quadro che si sono seguiti eh negli ultimi cinquant'anni nell'Unione Europea. Eh anche Horizon Europe il nuovo programma quadro pone al centro eh la ricerca di materiali intesi come materiali questa volta orientati più alla sostenibilità, orientati alle tecnologie avanzate, quindi una ricerca sempre più spinta nei materiali. Eh ma eh Horizon Europe eh guarda molto alla sostenibilità eh in ambito industriale e quindi eh ci stanno in ogni programma di ricerca per qualunque linea di per qualunque tipo di ricerca ci sta un occhio particolare alla all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale. Eh inoltre questo in contesto europeo, il contesto nazionale eh il corso di studi che abbiamo proposto è in linea con gli orientamenti suggeriti dal muro per quanto riguarda l'offerta formativa universitaria. Quindi eh che ha l'obiettivo di formare eh una nuova coscienza e una più matura consapevolezza sulla sostenibilità ambientale. Questo nel contesto europeo e nazionale. Ma perché questo corso è stato è stato proposto qui a Terni? Perché storicamente per quelli che stanno eh in nascotto e magari sono un pochino eh più eh grandi non voglio dire anziani eh il corso di ingegneria dei materiali è sempre stato nacque a Terni e già eh venticinque anni fa. Chiaramente non siamo qui a riproporre un corso di venticinque anni fa. Se uno pensa che venticinque anni fa i cellulari, i smart watch non esistevano, i smart smartphone non esistevano e chiaramente il sia il mondo dei materiali sia la ricerca sia evoluta. Quindi noi vogliamo proporre un nuovo corso innovativo sull'ingegneria dei materiali eh che eh tenga eh presente eh anche la parte della sostenibilità e le nuove tecnologie come le nanotecologie eh come le nanotecologie e le biotecnologie. Ma il territorio Ternano è sempre stato caratterizzato dalle presenze industriali riguardo ai materiali. Qua ho messo una 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 lista di gruppi eh di aziende multinazionali e nazionali che operano nell'area Ternana. Come vedete come potete vedere c'è l'ast le acciaierie che sono caratterizzano Terni ormai eh da da quasi un secolo eh le fucine Umbre eh Nova Montotreofan Tarchet Alcantara tutte aziende multinazionali sedi multinazionali che sono qui a Terni e vedrete che sono aziende che hanno eh che rappresentano per chi si iscrive a un corso del genere sia una possibilità per svolgere tirocini per farsi conoscere sia una possibile apertura per quanto riguarda il mondo del lavoro perché lo scopo di un corso di laurea è formare ingegneri che siano in grado di trovare lavoro e siano in grado di farsi valere e questo lo vedrete anche più avanti quando eh al finale eh dopo la presentazione delle linee di ricerca ci saranno alcune testimonianze di persone che io continuo a chiamare ragazzi perché li ho visti eh li ho visti crescere qui a Terni da trent'anni che occupano posizioni veramente apicali eh in queste industrie e in altre industrie eh avremo infatti eh il direttore di stabilimento dell'Aste il direttore di stabilimento della della Tarchet è eh un CTO che sarebbe il il technical officer cioè uno che siete nel consiglio di amministrazione di multinazionale che sono tutti i ragazzi di una multinazionale di materiali compositi avanzati che sono tutti ragazzi io continuo ripeto a chiamare i ragazzi che si sono laureati eh qui da noi e e quindi a a a validare la eh la a confermare la validità dei dei corsi che noi offriamo. Quindi a a Terni c'è sempre stata questa eh questa forte eh eh caratterizzazione di materiale e quindi abbiamo pensato di riproporre riproporre in maniera moderna e eh di eh in maniera sostenibile eh il corso qui a Terni offrendo un ulteriore corso. Eh questo è quanto riguarda il contesto e perché sono scelto. Fatemi dire due parole per quanto riguarda l'occupazione. Eh questi sono i dati di alma laurea relativi alla classe di laurea in magistrale in ingegneria dei materiali. Eh che come vedete la la condizione occupazionale è simile a a quelle di tutti i corsi di laurea ingegneria. Generalmente un laureato ingegneria trova sempre il lavoro più facilmente rispetto a atti laureati. Ma eh un paio di cose voglio farvi notare che dopo cinque anni eh il tasso di disoccupazione che vedete qui è quello fisiologico di un paese dove non ci sono disoccupati perché un paese dove non c'è disoccupazione e il tasso di occupazione torna al quattro per cento. Quindi praticamente eh un laureato che si laurea in ingegneria eh dei materiali con una laurea magistrale eh se vuole trovare lavoro lo trova. Eh se guardate al primo anno c'è un quarantotto per cento di persone che già lavorano ma eh fateci caso quelli che non lavorano e non cercano cioè quelli che naturalmente hanno deciso di fare un dottorato o di fare un tirocinio eh sono il resto praticamente ma dopo due o tre anni eh trovano lavoro. Un'altra cosa che mi che eh mi ha colpito quando ho studiato questi questi laurei è la eh la gender eh friendly friendness della della laurea in ingegneria di materiali. Se voi andate a vedere a livello se paragonate il tasso di occupazione degli uomini e delle donne eh il tasso di occupazione delle donne dopo cinque anni è superiore a quello degli uomini. Quindi eh siamo già avanti per quanto riguarda tutto eh quello che va fatto per per avere la parità di genere anche nel nel lavoro. Già a me si dice che le donne trovano eh lavorano di meno degli uomini per per motivi di genere. Una laurea in ingegneria di materiale non considera differenze di genere. Anzi eh eh eppure sbilanciata rispetto alle donne perché 87 contro 94 per cento. Quindi è una cosa molto eh che eh ci fa piacere come corso di laurea. Eh adesso volevo spiegare un pochino l'offerta formativa molto velocemente eh ripeto questo è un corso di laurea di ingegneria di materiale e processi sostenibili. Abbiamo strutturato in modo che il primo anno fosse comune a a a tre curricula in cui lo studente sarà in grado di scegliere eh quale fare più eh in modo che sia più attinente a a ai suoi interessi a quello che più eh gli riesce facile. Quindi il primo anno sarà comune a tutti i curricula con dei con gli esami diciamo non di base perché gli esami di base si eh prendono nel eh nella triennale e naturalmente l'accesso a questa laurea generalmente eh lo possono avere tutti quelli che hanno una laurea in ingegneria industriale e anche eh in lauree eh particolari in cui naturalmente ci potranno del tipo ingegneria civile eh potrà dovrà fare degli esami integrativi ma bene o male questo l'accesso sulla base di ingegneria industriale dà un accesso libero a questo eh a questo corso senza nessun credito residuo da fare e può scegliere fra materiali per aerospazio materiali per il green green o materiali per processi sostenibili. In pratica nel curriculum materiali per arrivare lo spazio eh sarà incentrato su tematiche relative ai materiali innovativi tipo compositi leghe leggere e materiali che operano in condizioni eh estreme avanzate come altissime temperature e naturalmente si considerano materiali avanzati tipo nano compositi eh e tutti i tipi di materiali hanno altre prestazioni in ambienti particolari. Naturalmente non è che uno che fa questo tipo di scelta dovrà lavorare solamente nelle aziende che producono gli aeroplani ma avrà una base per poter lavorare in aziende dove si lavora con materiali avanzati con materiali di alto livello ad alto valore aggiunto. Eh invece il curriculum materiali per i green bindi che il curriculum eh che eh vuole è è quello che fa da 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 Redunion da la dai materiali e alla sostenibilità eh in particolare anche per la il background del nostro dipartimento abbiamo eh definito questo curriculum materiali per il green bindi in cui i materiali vengono studiati eh riguardo la progettazione e l'utilizzo di materiali per l'edilizia green edilizia sostenibile ma eh materiali per l'affidamento energetico ma non significa come dicevo per il curriculum di dare lo spazio in questo curriculum uno avrà eh lo studente avrà informazioni eh acquisita conoscenze che riguardano naturalmente l'utilizzo di materiali non solo per l'applicazione delle edilizie materiali che si faranno riferimento al materiale impieto gradabile anche all'industria del packaging quindi è un curriculum che permette di lavorare di avere questo background sull'utilizzo dei materiali per l'edilizia ma per in generalmente l'applicazione dei crimini. Infine un curriculum eh specificamente dedicato ai processi sostenibili in cui ci saranno approfondimenti eh sull'energia di processo fatta in modo sostenibile cioè riguardando sempre un occhio particolare all'ambiente eh e ci sarà eh uno acquisire lo studente acquisire la competenze su life cycle analisi sull'analisi al ciclo di vita su life cycle cost eh ma eh e generalmente sull'economia circolata applicata ai processi di produzione. Una figura di ingegnere che è molto ricercata anche alla luce di quello che abbiamo visto eh quando parlavamo delle delle linee della della comunità europea. Velocemente eh la festa formativa è inutile che andiamo mano mano per gli esami ma vi faccio vedere che il primo anno è comune a tutti con esami di caratterizzazione dei sui materiali di base che vengono utilizzati nella eh nella nell'ingegneria dei materiali mentre gli altri curriculum eh hanno eh esami più specifici relativi a eh a quella e alcuni di questi esami che sono presenti in questi curriculum quelli per materiali per lo spazio quelli per l'edilizia per il green building eh li vedrete eh le linee di ricerca relative le vedrete presentate nelle presentazioni che fra poco andremo a sentire. Eh come vedete in ogni curriculum ci sono ci sono dodici crediti relative a esami a scelta che lo studente potrà scegliere sia eh in altri corsi eh dell'ingegneria eh ma eh all'interno degli stessi eh trasversalmente agli altri curriculum. Avendo dodici crediti a disposizione uno può eh diciamo fare un miglior tuning del del proprio corso di laurea per esempio inserendo esami eh relativi se uno è interessato magari ai materiali eh compositi per l'aerospazio ma eh sta ha scelto il curriculum processi sostenibili ha la possibilità di inserire questi esami. Quindi farsi eh abbiamo pensato di eh fornire allo studente la capacità di eh scegliere e eh aggiornare sui e aggiornare sui costi di studi in maniera più adeguata della sua possibilità. Eh infine eh vi volevo far vedere eh velocemente eh cosa abbiamo in mente riguardo la sede eh stiamo già eh per inizi corsi eh sistemando eh una parte eh del primo piano dell'edificio che vedete qui a destra dove saranno presenti tutte aule con eh luce e finestre ma eh la il campus di Pentima eh che eh quelli di Terni conoscono bene la locazione eh è eh oggetto di una progettazione futura che farà sì che eh potrà essere reso più fruibile agli studenti nei nei nostri piani se naturalmente tutto andrà eh bene eh quindi eh sono già allo studio eh questi disegni e queste eh rendering che vedete sono state tutte eh fatte dalla dai 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 gruppi di ricerca del dipartimento di interiore civile ed ambientale con la progettazione per il nuovo campus di 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 Penti ma che prevede una riguidificazione sia degli impianti sportivi esistenti qua ci sono dei campetti di tennis e di calcio un miglioramento in accordo con le istituzioni locali dei collegamenti di trasporto e recuperare architettronicamente e funzionalmente il il complesso eh giusto per farvi vedere questo è quello che si può fare eh e cercheremo di fare nei prossimi anni quindi ottenere un campus moderno con una serie di offerte formative avanzate non solo queste. Detto ciò eh eh concludo la mia presentazione eh passo la parola eh passiamo alla seconda fase diciamo della della giornata nella quale vedrete eh le linee di ricerca principali perché eh naturalmente eh come vi avevo detto nella presentazione eh eh precedente la ricerca sui materiali su tutto ciò che riguarda le applicazioni dei materiali è fortemente radicata qui a Terni da anni quindi sono degli ottimi laboratori tutti quanti che hanno rapporti internazionali sia con aziende sia nel cambio della ricerca europea eh 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 sono riconosciuti a livello mondiale una parentesi solo fatemi concludere prima di di passare la parola a il professor Kenny che eh presenterà eh le che presenterà uno dei laboratori e poi dopo ci sarà il professor Dischino eh il professor Burascano e il professor Gioffre eh nel eh a Pentima qui ci sono almeno quattro docenti che stanno nella lista dei eh cento docenti più citati nella loro eh nella 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 loro categoria quindi la ricerca e la la didattica qui a Pentima è veramente di alto livello quindi passo la parola a a professor Cosè Kenny che è stato il fondatore del laboratorio di scienze e tecnologie dei materiali eh e ci ci presenterà un pochino la ricerca che tuttora. Grazie Gino buongiorno a tutti vi presento velocemente le linee di ricerca del gruppo di scienze e tecnologie dei materiali che vabbè non non voglio essere antipatico ma in qualche modo è stato il pioniero a Terni e mi permetto di correggere al professor Torre presenti da quasi trent'anni nel senso che il corso del laureo in ingegneria materiale iniziò proprio nell'anno novantuno e il gruppo di ricerca si stabilì nell'anno novantadue e e attività sono attività di un gruppo tipico nel settore dei materiali polimerici ci occupiamo delle materie plastiche ma con un grande senso dell'innovazione e in settori sicuramente di tecnologie diciamo di molto moderne e con applicazioni molto avanzate. I materiali compositi sono il forte del gruppo ma vengono applicate i polimeri i compositi e in tutti i settori comprendendo anche la parte per esempio di films e coatings dei materiali verdi così chiamati materiali per l'aerospazio già citati per l'edilizia per l'energia biomateriali e trasversalmente tutti quanti caratterizzati da un approccio anche nanotecnologico quindi nanotecnologie di questi materiali. In particolare senza entrare troppo nel dettaglio noi siamo partiti direi proprio del settore aerospaziale poi trasferito al settore dell'auto abbiamo lavorato molto con centri ricerche fiat poi ad altri settori tipo l'edilizia e ultimamente anche nel settore dei biomateriali e degli imbalaggi per gli alimenti tutti i settori che richiedono enorme innovazione voi pensate che in tutti i settori dei materiali non sono materiali plastici e materiali compositi le formulazioni che vediamo sono formulazioni sviluppate negli ultimi cinque anni nel senso che c'è una dinamica continua e una continua richiesta di nuovi materiali e di nuove applicazioni quindi è un settore trasversale che continuerà sempre con questa dinamica e quindi sempre continuerà a richiedere esperti in questi settori. Il nostro gruppo si è caratterizzato per un approccio diciamo così in tre aspetti uno è il territoriale abbiamo subito guardato il territorio e la necessità del territorio e collaboriamo con molte delle aziende del territorio e cito alcune ma diciamo non vorrei fare rispetto a nessuno ma sicuramente devo citare il gruppo CF che dall'inizio ci ha supportato la TARCET, l'Alcantara, la CELE speciale di Terni. Bisogna ricordare che il nostro gruppo ha formato più di 200 laureati con tesi di laurea nel settore dei materiali e più di 30 dottorati diciamo dottorati di ricerca fatte nel settore dei materiali ma anche il settore nazionale ho citato già il centro ricerca FIAT ma il gruppo Avio per esempio che ci ha dato tanto diciamo possibilità di lavoro e continuiamo a collaborare con loro e quindi molti aziende proprio di primo livello a livello nazionale e poi a livello internazionale il nostro forte è stata la continua partecipazione a progetti europei che ci hanno visto collaborare con gruppi come la DASO, come Samsung, come Samsung, diciamo tutti aziona nella Spagna, tutti i gruppi diciamo di primo livello a livello internazionale per il sviluppo di nuovi materiali. I laboratori, già citato il professor Torre, sono lavoratori veramente d'avanguardia con apparecchiature diciamo che non hanno niente da invidiare, anzi forse ci invidiano altri gruppi di ricerca nazionali e tutti centrate nella lavorazione di materiali polimerici compositi e nella loro caratterizzazione. Questo per esempio è il lavoratorio per l'aerospazio dove siamo un referente assolutamente nazionale e internazionale per lo sviluppo di materiali di protezione termica utilizzati nello spazio e nei razzi lanciatori e anche nel caso dei materiali biodegradabili ovviamente l'approccio della sostenibilità ambientale richiede lo sviluppo di nuovi materiali biodegradabili, polimeri biodegradabili per evitare la proliferazione dei residui plastici nell'ambiente. Quindi anche su questo abbiamo un'attenzione molto particolare e siamo anche referenti nazionali e internazionali per lo sviluppo di questi materiali. Devo citare anche il supporto della Fondazione della Casa di Risparmio dei Terni Narni per l'acquisto di alcune di queste apparecchiature avanzate lungo questi 30 anni di vita del gruppo di ricerca che ovviamente continuerà sempre più a sviluppare nuovi approcci per la ricerca dei materiali. Avete qua il nostro indirizzo, la nostra pagina web e ci invitiamo a consultarci diciamo per il vostro interesse in questo settore. Grazie mille. Grazie Cosè e adesso passiamo dalla parola a Andrea Dischino che ci parlerà delle linee di ricerca del materiale di metallurgia. Grazie, grazie Luigi. Intanto parlare dopo il professor Kenny è sempre un po' un po' difficile. Il professor Kenny è stato il padre scientifico di tanti di noi. Io mi chiamo Andrea Dischino e rappresento, se volete, qui presso questa sede e qui di questo presso questo nuovo corso di laurea l'aspetto dei materiali metallici. Rappresenta un gruppo di ricerca che si è installato a Terni relativamente da poco ma che si è installato a Terni proprio perché è una sede, se volete, da questo punto di vista molto fertile proprio per la presenza di tutte quelle industrie alle quali ha accennato sia il professor Torre che il professor Kenny. Come vedete abbiamo attività di ricerca e di stretta collaborazione con molte delle aziende del territorio. Cito di nuovo la Ciai Speciali Terni che non può essere non citata ma il Centro Sviluppo Materiali oggi parte del gruppo Rina Consulting che è uno dei maggiori research company come si dice, no? Nel senso aziende coinvolte nella ricerca di materiali metallici a livello europeo. La stessa Fucine Umbre ma piuttosto che altre aziende che invece si rivolgono a noi venendo da zone anche più distante che quindi riconoscono nelle competenze che trovano presso questo corso di laurea competenze che probabilmente altrove non possono trovare. Cito il gruppo Civitale il gruppo Civitale del Friuli che è un gruppo importante che sviluppa ciai inossidabili in Friuli. Cito l'Istituto Italiano di Saldatura che è un centro che racchiude al proprio interno tanti tra le maggiori aziende coinvolte nel mondo della saldatura ad esempio la Fincantieri. Cito la Marcecaglia che penso non abbia bisogno di presentazioni piuttosto che la Evraz che è una multinazionale russa che ha deciso di finanziare i nostri corsi di laurea attività importanti riconoscendoci al pari di università quali la Colorado School of Mines negli Stati Uniti piuttosto che il Politecnico di Aachen che sono tra i maggiori nomi per chi fa ricerca, chi si interessa di ricerca in campo dei materiali metallici. Che cosa facciamo? Ma fondamentalmente ci interessiamo di quello che io chiamo il metallurgical design. Mi piace dirlo in inglese perché ma sostanzialmente significa sviluppo di materiali a partire da quello che è il disegno della microstruttura eh finalizzati a a a l'ottenimento di proprietà target sempre più sfidanti. Questo attraverso analisi microstrutturali spesso avanzate anche in collaborazione con il gruppo del professor Kenny e del professor Torre. Abbiamo collaborazioni molto stringenti dal punto di vista anche della eh messa in comune di alcuni laboratori no? Eh Gino pensiamo penso di poter dire. Missura di proprietà meccaniche eh quindi analisi di di frattura che diventa particolarmente importante se noi pensiamo appunto all'attività per l'IIS piuttosto che per aziende che debbano produrre materiali alto resistenziali. Uno dei target oggi di chi sviluppa materiali di questo tipo è produrre materiali che siano alto resistenziali ma che nello stesso tempo possano mantenere una buona tenacità una buona resistenza all'impatto e che quindi possano avere particolari caratteristiche caratteristiche in termini di quello che può essere proprio comportamento a frattura. Questo sia ragazzi eh per quello per per vari settori no? Da quello più tradizionale automobilistico a quello aerospaziale che abbiamo visto essere uno eh dei target uno eh ben espresso in uno dei curricula di questo nuovo corso di laurea piuttosto che in generale nel settore dell'additive manufacturing che io definisco quando parlo ai miei studenti un po' la prateria per chi farà materiali metallici nei prossimi vent' anni. La prateria nel senso che lì c'è veramente da ridisegnare una nuova metallurgia. Eh abbiamo recentemente partecipato a un progetto finanziato da Regione Umbria per lo sviluppo per esempio di acciai ehm di acciai magnetici di acciai per per motori elettrici direttamente sviluppati da da tecnologie additive con del con del delle aspettative completamente diverse nel senso che le le nuove tecnologie permettono di pensare il materiale in modo diverso quindi eh per esempio ottenere del disegnare delle composizioni chimiche ottenere delle proprietà che altrimenti la tecnologia tradizionale non permetterebbe di ottenere. In sostanza che cosa può trovare un un studente secondo me da noi che non può trovare eh in altri no? In altri corsi di laurea. Secondo me la parola chiave eh che è quella che alla quale si è rifiuto sia il professor Torre che il professor Cani è presenza di laboratori d'eccellenza. Qui ci sono laboratori che si sono installati a terni negli ultimi trent'anni. Ehm attenti una cosa i laboratori di eccellenza si trovano in tante università secondo me ma la differenza tra la possibilità di laboratori di eccellenza da noi a Terni piuttosto che in altre sedi consiste nel fatto che da noi studenti possono veramente essere coinvolti direttamente nelle attività di laboratorio possono toccare con mano e non soltanto magari rimanere a distanza e eh vedere un docente piuttosto che un ricercatore che opera. Questo significa eh possibilità di acquisire competenze che possano essere immediatamente vendute eh a livello di a a livello industriale a livello di possibilità di lavoro anche facilitare dal fatto che eh le ricerche che noi conduciamo sono ricerche che nella maggior parte dei casi sono finanziate sono svolte in stretta collaborazione col sistema industriale favorendo quindi se volete anche un interscambio no? culturale tra lo studente ehm e l'ingegnere di di processo piuttosto che l'ingegnere di materiale sempre per citare le parole chiavi no? Che accompagliano nel titolo di questo nuovo e nelle declaratorie di questo nuovo corso di laurea e quindi favorendo uno un assorbimento molto veloce da parte dello studente nel mondo del lavoro. Grazie per l'attenzione. Sono stato veloce? No, hai fatto il tempo perfetto che aveva a disposizione. Grazie mille. Eh adesso passiamo la parola al professor Gioffre. Allora sì grazie al professor Torre. Eh io sono Massimiliano Gioffre e eh diciamo che seguo un po' le eh la parte dei materiali e voglio voglio continuare un po' il discorso che aveva introdotto il professore Torre per quanto riguarda no? La la tendenza attuale anche della comunità europea di andare verso materiali eh sostenibili e materiali che che sono insomma avanzati quindi una ricerca spinta per verso verso materiali che possono eh essere utili per applicazioni eh più disparate. Mi fa molto piacere partecipare a questa iniziativa ma soprattutto mi fa molto piacere partecipare a questo corso di laurea come docente perché negli ultimi anni eh si è verificato che anche nel nostro settore dell'ingegneria civile e in particolare io rappresento il gruppo di strutture che diciamo così orbita e ha sede a Perugia però spesso e volentieri eh abbiamo fatto delle collaborazioni con i gruppi di ricerca di Terni e abbiamo utilizzato i laboratori di Terni perché appunto come hanno già detto chi mi ha preceduto sono laboratori molto molto eh avanzati e abbiamo tentato di 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 fare degli studi proprio proponendo dei materiali eh nuovi. Per quanto riguarda la sostenibilità ad esempio eh siamo stati un po' i precursori eh ormai cinque sei anni fa sulla possibilità di utilizzare la canapa come rinforzo strutturale quindi cercare di costruire un materiale composito che che fosse adatto anche per il rinforzo strutturale e la cosa bella di 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 questo corso di laurea che sarà e di e di dell'attività che facciamo è che spesso e volentieri quindi la sperimentazione inizia quasi un po' per gioco con i nostri studenti dei corsi di laurea quindi eh in questo caso eh con degli studenti di architettura si erano eh si sono portati avanti alcune tesi di laurea che poi hanno trovato applicazione e hanno poi consentito di approfondire le tematiche ovviamente fare della ricerca e attrarre fondi di ricerca a livello europeo questo per esempio ha stimolato eh un progetto a livello europeo che ha diciamo in qualche modo eh esteso le 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 prime primordiali ricerche che abbiamo fatto nell'ambito delle tesi di laurea eh in questo caso ovviamente nel nuovo materiale composito c'è una parte resistente che è costituita dalla dalla fibra di canapa che è stata analizzata e scomposta come vedete in tutte le sue forme nel nei laboratori di Terni e eh che viene inglobata in una matrice anche questa possibilmente sostenibile quindi vedete eh che in questo caso erano stati fatti dei provini di l'adilizio sbriciolato che noi abbiamo abbiamo chiamato coccio pesto che era staccato amalgamato con delle resine naturali e oppure delle malte a base di calce. Questo materiale composito viene eh caratterizzato quindi nei suoi componenti e ovviamente anche nell'interazione fra i componenti no? Fra la matrice e la e le fibre per poi fare questo tipo di applicazione. Vedete che siamo stati primi a proporre una cosa del genere. Adesso so che qualcun altro ha già cominciato a estendere questi risultati e archi che notoriamente hanno delle difficoltà a resistere eh a trazione se fatti in laterizio vedete che viene fatta all'estradosso un'applicazione con questa matrice di coccio pesto in cui vengono inglobate queste corde eh di canapa. Ovviamente questa eh applicazione ha preso lo spunto da altri tipi tecnologie di intervento di rinforzo strutturale che vedono altri materiali compositi che vengono attualmente utilizzati come come diciamo così materiali compositi a fibre di vetro e fibre di carbonio. Eh la cosa interessante che è uscita fuori da queste di queste ricerche è che appunto anche la fibra di canapa non solo eh conferisce una resistenza maggiore a a questo tipo di strutture ma vedete che nella figura sottostante eh garantisce anche dei livelli di sicurezza a aggiuntivi cioè noi sappiamo che comunque le strutture sottoposte a stisma si danneggeranno perché non possiamo evitare che si danneggino però eh nel momento in cui eh abbiamo un presidio di questo tipo evitiamo che questa struttura eh possa eh collassare completamente e quindi arrecare danno a a persone e cose quindi diciamo che in questo caso questo tipo di applicazione eh ha dimostrato essere promettente in questo ambito appunto come dicevo il progetto di cerchi a livello europeo eh adesso all'estensione di questo tipo di applicazione e ne faremo a settembre delle prove su tavola vibrante su su delle strutture bidimensionali che sono studiute da archi e volte. Altri materiali che sono sempre più di interesse ad esempio anche questa è una tesi di laurea in cui il materiale composito biocomposito era fatto eh da fibre di ginestra e che con matta di calce idraulica è additivata col metacaolino eh quindi in cui proprio si è trattato di progettare ex nuovo questo materiale quindi ovviamente va scelta la la lavorazione della della fibra naturale che meglio si adatta alle al materiale che poi deve contenerlo in questo caso questa questa malta di calce viene caratterizzato nei laboratori eh con prove eh di riflessione su tre punti prove di compressione quindi le prove standard che si fanno e e diciamo poi ovviamente una volta eh ottenuti questi risultati si cerca si cercano delle delle applicazioni eh nel campo del restauro eh storico architettonico di del esempio delle strutture ma non solo eh applicazioni nell'ambito civile sezione strutture e quindi sulla parte resistente del del costruito ma anche eh eventualmente lavorare sull' efficientamento energetico attualmente per esempio noi collaboriamo con una ditta importante in Umbria che produce l'atterizio che è la FBM e che già fa dei mattoni eh in cui cerca di aumentare le prestazioni energetiche eh riempendo gli spazi vuoti dei dei laterizi con con del con del polisterolo espanso sostanzialmente l'idea è quella di sostituire il polisterolo espanso con delle fibre di canapa e vedete lì sotto sono stati preparati all'interno di una di una ditta di Perugia Delta Fina che lavora il tabacco e in realtà sono organizzati per diversificare la produzione e hanno chiesto aiuto all'università e per poter vedere se ci sono degli utilizzi concreti anche nell'utilizzo di materiali come la come la canapa eh in questo in questo settore quindi noi abbiamo fatto tutte queste queste prove e con i laboratori di termini abbiamo eh sperimentato e cominciato a lavorare a a studiare qual è la conducibilità termica e altre caratteristiche di questo tipo di di materiale che in qualche modo eh dovrebbe poi consentire di migliorare le prestazioni con con materiali che vanno più che strizzano più l'occhio alla sostenibilità eh molto velocemente qui vi faccio vedere altri tipi di ricerca che fa il gruppo di strutture eh per esempio ci sono calcestruzzi nano modificati automonitoranti in quale è l'idea eh che si aggiungono delle fibre di eh nano fibre di carbonio e che conferiscono al calcestruzzo delle proprietà eh elettriche che opportunamente monitorate consentono di vedere quando ci sono delle variazioni del carico vedete lì a sinistra quando c'è questa variazione del carico scatta all'allarme e quindi eh bisogna intervenire bisogna capire che cosa è successo oppure calcestruzzi termicamente efficienti eh quindi additivando con materiali opportuni calcestruzzi eh oppure questo questo diciamo aggiungendo eh opportuni miscere di materiali metallici all'interno del della pasta dell'aterizio si riescono a fare degli degli smart bricks che in qualche modo servono sempre allo stesso scopo cioè di monitorare quello che accade all'interno del della della struttura infine eh questo tipo di applicazione ovviamente ha ricevuto anche finanziamenti per quanto riguarda la possibilità di ottenere dei pavimenti intelligenti quindi anche in questo caso che consentono di per esempio in questo caso monitorare il traffico e quindi dandoci le caratteristiche di quanti mezzi passano e che pesi hanno quindi diciamo questi sono alcuni dei temi principali di ricerca per quanto riguarda anche l'applicabilità dei materiali al settore strutture grazie Massimo passiamo la parola al professor Burascano allora buongiorno buongiorno a tutti eh presento un'attività che si collega strettamente a quelle che sono state citate eh fin qui perché eh molte delle eh delle cose che sono state dette sono legate alla necessità di sviluppare dei materiali che siano eh dotati di caratteristiche innovative di caratteristiche che li portino eh a competere internazionalmente in maniera eh in maniera efficace e questo richiede di poter effettuare sia un'ottimizzazione del prodotto sia rendere il prodotto il processo produttivo più efficiente per minimizzare l'impatto ambientale e tutto questo è stato reso ancora più agevole della possibilità di disporre di reti di sensori a basso costo che possono essere utilizzate sia nella fase di produzione del materiale che nella fase poi successiva di verifica dello stato di eh di salute chiamiamolo così della struttura che con questo materiale viene realizzata bene tutto questo insieme di tecniche sono legate da sistemi di elaborazione estremamente efficienti che vengono utilizzati oggi e che si sono stati sviluppati negli anni il corso di laurea in diciamo le le competenze presenti a Terni nell'ambito dei materiali è stato ricordato che sono trent'anni circa che siamo presenti bene queste competenze sono state sviluppate già da dall'inizio dagli albori di queste possibilità e quindi abbiamo pensato di sviluppare delle capacità di monitoraggio non solo di tipo distruttivo come alcune delle prove che sono state fatte vedere nelle presentazioni precedenti ma anche di tipo non distruttivo quindi tecniche avanzate di monitoraggio del processo produttivo e del prodotto una volta realizzato nelle diverse fasi di produzione tutto questo si lega al concetto di industria 4.0 quella che oggi viene denominata industria 4.0 e a tutte le attività che a questo si eh si legano come vengono realizzate queste cose sono due le fasi distinte che ho qui separato in questi due riquadri una è la definizione di un modello della struttura o del materiale che si vuole realizzare quindi la capacità di definire un diciamo un equivalente matematico di quella che è la struttura o l'oggetto che si vuole realizzare per per ottenere questo risultato bisogna anche conoscere molto bene il materiale o conoscere molto bene la struttura che si vuole analizzare e quindi scegliere la fisica più adatta e i sensori più adatti ad analizzarlo questo vuol dire che a seconda del tipo di materiale a seconda del tipo di struttura possono essere scelte delle tecniche di tipo elettromagnetico come quelle delle correnti indotte o delle tecniche di tipo ultrasuoni o delle tecniche di tipo termografico o di analisi acustica o biprometria laser insomma sono molti i tipi di sensori che possono essere utilizzati bisogna conoscere la struttura conoscere il problema conoscere le caratteristiche e le potenzialità dei sensori e fare un'ottimizzazione del tutto per ottenere una analisi non distruttiva NDT sta per non destructive test analisi non distruttiva del pezzo che può essere analizzato senza la necessità di alterarlo questo apre delle possibilità enormi perché vista la possibilità di sviluppare delle tecniche efficienti di elaborazione e il basso costo dei sensori non solo si possono fare dei controlli a campione ma si possono fare anche dei controlli sull'intera produzione del comparto industriale del quale ci si sta occupando di queste cose noi abbiamo sviluppato moltissime applicazioni parto dalle applicazioni che sono state sviluppate nell'ambito dei materiali metallici in collaborazione con aste in questo caso abbiamo sviluppato delle dei sensori per fare una sostanzialmente una immagine magnetica del del laminato metallico che viene prodotto e questo consente di verificarne lo stato di verificarne la qualità e di verificare la tipologia e in questa maniera possono essere separate le diverse tipologie di laminato a seconda della qualità della produzione per essere destinate a mercati di tipo diverso questa è una un'attività che abbiamo svolto ripeto con con l'acciaieria oramai parecchi anni fa è iniziata questa attività analogamente per quanto riguarda i materiali forgiati nel caso dei materiali dei materiali forgiati i fucili grandi fucinati che vengono prodotti in a viale brin la tecnica che si utilizza in questo caso è una tecnica di tipo diverso una tecnica a ultrasuoni i grandi fucinati di queste dimensioni vengono prodotti dalla società delle fucine da quella che era la società delle fucine vengono accettati dal committente attraverso delle analisi a ultrasuoni ecco noi abbiamo messo in grado il diciamo chi produce di avere una capacità di analisi e di ispezione maggiore rispetto a quello che sarà poi il verificatore il cliente verificatore in questa maniera si riescono a ottenere delle verifiche preventive di altissima qualità e si riesce ad avere un quadro completo di quella che è la capacità di produzione e come può essere migliorata la capacità di produzione oltre a essere stata sviluppata insieme alla società di fucine i termi questa tecnologia è stata acquisita e siamo stati sotto contratto con la siemens che ha uno stabilimento ad hoc di diagnostica distruttiva a monaco che con la quale abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare moltissimo le strutture di altra natura come per esempio le strutture in alluminio oppure i materiali compositi hanno trovato un larghissimo utilizzo nella realizzazione di aeromobili e di oggetti che devono andare allo spazio questo aspetto ci ha spinto a utilizzare delle tecniche di tipo differente elettromagnetico nel caso dell'alluminio perché dovevano essere rilevate delle difettosità di piccolissima dimensione o delle tecniche di tipo termografico nel caso di materiali compositi che non possono essere analizzati con tecniche di altro tipo e quindi abbiamo sviluppato le tecniche ad altissima risoluzione di tipo termografico. L'insieme delle collaborazioni che abbiamo sviluppato con numerose industrie e centri di ricerca in tutta Europa ha consentito alla struttura di Terni in particolare al sottoscritto di coordinare insieme al gruppo del gruppo che coordino appunto di coordinare un progetto europeo che si è concluso il settembre scorso nell'ambito della verifica delle strutture della diagnostica non distruttiva delle strutture degli aeromobili. Questo tipo di tecniche trovano delle applicazioni in moltissimi campi non solo quello dei materiali metallici o dei materiali compositi in particolare noi abbiamo avuto e abbiamo una lunga una collaborazione va avanti da lungo tempo nell'ambito della della ispezione di materiali in ambito alimentare perché con tecniche particolari con tecniche di elaborazione particolare si possono effettuare delle analisi a ultrasuoni per esempio come fatto in questo caso senza la necessità di contatto. Questo per esempio ci ho messo in grado di verificare l'intera produzione del questo è la linea di produzione di Colussi abbiamo avuto contratti con Colussi abbiamo avuto contratti con Gentilini a Roma per la produzione di fette biscottate in quel caso la tecnica era di tipo termografico passivo in altri casi appunto come quello che è riportato qui sono di tipo a ultrasuoni quindi amplissima possibilità di sviluppare applicazioni a 360 gradi in un settore come la elaborazione dei dati applicata a tecniche di produzione di materiali che sta trovando larghissima larghissimo impiego in moltissimi settori. Grazie per l'attenzione. Grazie Pietro adesso in conclusione della giornata prima di passare tra le domande se ci sono se ci saranno vorrei far mandare questi tre video di circa un minuto e mezzo all'uno in cui avremo la testimonianza di questi tre ex studenti nostri che occupano come vi dicevo posizione applicare quindi vedremo prima l'ingegnere Dimitri Menkali della dell'Ast l'ingegnere Daniele Guerra della Tarket entrambi i tre stabilimenti e l'ingegnere Emiliano Frulloni della Guruit che è sede nel CTO. Prego. Buongiorno a tutti sono Dimitri Menkali direttore di stabilimento di accessi speciali terni l'azienda per cui lavoro ormai da vent'anni sono ingegnere dei materiali come moltissimi dei miei colleghi che nella mia azienda ma anche in altre aziende di pari importanza ricoprono oggi incarichi di responsabilità negli ambiti più disparati alla produzione alle vendite alla qualità perché le aziende come la mia affidano questi incarichi a ingegneri dei materiali di terni perché oltre al buon livello di preparazione che il piano di studi ci ha permesso di sviluppare e che ci ha permesso poi di operare come dicevo negli ambiti più diversi nell'ambiente della facoltà di ingegneri materiali di terni è stato possibile sviluppare più che in altri luoghi quello che secondo me sono le caratteristiche più importanti che permettono alle persone di percorrere percorsi di carriera importanti con successo questi aspetti sono soprattutto la capacità di cooperare e collaborare tra le persone lavorare squadra e queste caratteristiche hanno trovato terreno fertile per potersi sviluppare per poter diventare il nostro dna il nostro modo di fare le cose perché abbiamo trovato un corpo docente dei professionisti che si sono messi al servizio dei degli studenti quindi hanno creato un terreno fertile per lo sviluppo di queste relazioni queste relazioni che ci hanno permesso anche poi di sviluppare collaborazioni in ambito professionale noi continuiamo ancora oggi a collaborare con la facoltà di ingegneria e lo facciamo soprattutto negli ambiti più complessi soprattutto negli ambiti più sfidanti per quanto riguarda me personalmente quel periodo e quel tipo di ambiente ha permesso di sviluppare relazioni di amicizia importanti che ancora oggi coltivo e ancora oggi rappresentano una parte centrale della mia vita. Ritengo che questo sia stato possibile come dicevo per le persone che allora e oggi operano in quella facoltà e che mi sento di ringraziare anche per avermi dato l'opportunità oggi di testimoniare la mia esperienza. Quindi approfitto di questa occasione non solo per ringraziare amici e colleghi come l'ingegnere Torre come l'ingegnere Iannoni come l'ingegnere Dischino ma anche per augurare a tutti quelli che decideranno di intraprendere questo percorso e quelli che riusciranno a raggiungere il traguardo della laurea un grandissimo indopo a lui. Buona Buongiorno a tutti sono Daniele Guerra direttore di stabilimento della Tarket S.p.A. di Narni ma soprattutto sono anche un ex studente della facoltà di ingegneria del polo scientifico didattico di Terni. La mia laurea ahimè è un pochino datata. Mi sono laureato nel 1998 quando eravamo agli albori di questa esperienza. Devo dire che grazie alla competenza dei professori vorrei citare sicuramente il professor Kenny, il professor Torre. La validità degli insegnamenti ricevuti mi ha consentito di avere interessanti sviluppi della mia carriera non solo rivestendo ruoli importanti all'interno di aziende del territorio ma anche a livello di gruppo nella divisione EMEA. Oggi grazie al network che abbiamo costruito con ex studenti, ex colleghi ma ancora con gli ottimi rapporti con i professori, l'Università di Perugia e la facoltà di ingegneria a Terni rappresentano per noi un importantissimo partner. Insieme abbiamo ottenuto due brevetti innovando quello che è un prodotto, il primo materiale composito completamente naturale, con due brevetti riguardanti linoleum conduttivo ma anche il linoleum a parete con specifiche proprietà di resistenza al fuoco. Ancora oggi ospitiamo moltissimi studenti per tesi, tirocini e stage ma cosa più importante nel nostro organico abbiamo almeno 10 ingegneri dei materiali. Questo è che hanno studiato a Terni ma anche in altre funzioni abbiamo intrapreso un rapporto, una collaborazione duratura che sta dando risultati importanti. Per la TARCET, anche per il gruppo TARCET, avere studenti che possono ambire a ricoprire posizioni della nostra azienda, che hanno deciso di sposare un progetto di vita e di studio nel territorio a un valore aggiunto perché rappresenta un importante elemento di continuità. Ecco quindi che vi faccio un grande in bocca al lupo per le vostre scelte future e perché no, un arrivederci. Grazie a tutti. Salve, mi chiamo Emiliano Frulloni e mi sono laureato in Ingegneria dei Materiali nel 2001. Ho continuato conseguendo un dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale nel 2004. Subito dopo il dottorato, grazie alle esperienze maturate durante la mia tesi laurea al CERN di Ginevra e grazie anche a quelle maturate durante lo svolgimento del mio dottorato nell'ambito di un progetto europeo, ho trovato lavoro nel Regno Unito per un'azienda leader nel settore dei materiali compositi. Sono cresciuto all'interno di questa azienda fino a divenire responsabile per lo sviluppo dei materiali compositi a livello globale. Oggi sono il Chief Technology Officer per una multinazionale svizzera che anche in questo caso opera nel settore dei materiali compositi per energie rinnovabili nell'aerospazio e in campo industriale. L'Università di Perugia, in particolare il gruppo di Scienze e Tecnologie e Materiali, sono stati essenziali per la mia formazione e per fornirmi le basi su cui ho poi costruito il mio percorso professionale. In particolare vorrei ringraziare il professor Luigi Torre e il professor José Maria Kenny per la fiducia, per l'autonomia e per le opportunità che mi hanno sempre offerto durante il mio periodo formativo e il professor Paolo Conti per il supporto tecnico che mi ha dato durante il mio dottorato. Ancora oggi ho fantastici ricordi del mio periodo all'università e ancora oggi attingo alle esperienze e alle conoscenze che ho acquistato e acquisito durante il mio periodo formativo. Io invito quegli studenti che avessero intenzione, credo che alla luce di quello che si è detto, chi si vuole iscrivere a un corso di questo tipo ha tutti i dati per farlo e avrà anche la certezza di fare un corso che gli darà possibilità sia di una buona carriera ma più di tutti una formazione adeguata, perché questo è importante, perché una formazione adeguata è la cosa principale. Grazie a questo uno riesce a trovare lavoro, a occupare posizioni. Salutiamo tutti gli ascoltatori, i professori che avete visto sono disponibili per domande anche via email, basta scrivere il nome e il cognome chiocciolipg.it e siamo tutti pronti a ottenere informazioni e dati. Arrivederci e grazie a tutti. Grazie a tutti.